Un saluto agli amici della redazione.eu e un ringraziamento per questa bella opportunità anche di sentirci più vicino. Io mi sto abituando a questo fenomeno delle call conference, tra l'altro lo sto facendo anche per lavoro, è anche un modo per ascoltarci e sentire quali sono le esigenze di tutti. Come consigliere comunale cerco di impegnarmi per quanto posso sostanzialmente su tre fronti. Il primo è il contenimento del rischio, quantomeno per gli operatori comunali, per gli operatori della sanità, per gli operatori che ogni giorno sono per strada a fare varie attività necessarie. E lo sto facendo soprattutto grazie al contributo della rete e delle associazioni cavesi del terzo settore per la distribuzione di mascherine sia ai dipendenti comunali che agli operatori sanitari. Poi stiamo cercando come comune di portare avanti quei progetti che erano già stati digitalizzati, per cui le gare digitali e tutto quello che si riesce a fare attraverso lo smart working, perché da questa settimana abbiamo attivato questa particolare modalità di accesso al lavoro da casa. E infine stiamo provando anche a reagire, a cercare delle frontiere innovative, non solo per fare fronte al virus, ma anche per digitalizzare dei processi. Con il Centro per l'Artigianato Digitale stiamo mettendo il Comune di Cava, sta organizzando un progetto molto bello per la produzione di respiratori tra la trasformazione di maschere da sub sostanzialmente. E con il Green Hub stiamo realizzando una serie di incontri telematici con i player, e con gli stakeholders dell'ente comune per capire anche come i vari settori poi dovranno ripartire. Perché in questo momento siamo tutti concentrati sul contenimento del rischio sanitario, ma sappiamo già che ben presso ci dovremo porre il problema di come la nostra città dovrà rimettersi in piedi e ripartire, anche più forte di prima, con una nuova consapevolezza sia dei rischi sanitari che il nostro tempo ci pone, sia delle opportunità che derivano dalla digitalizzazione. Un saluto a tutti, grazie alla redazione.eu e buona quarantena in allegria, Forza Cava e Forza Italia!